Il 4 settembre scorso, due persone a bordo di un Audi di grossa cilindrata con targa straniera si presentarono alla pizzeria e sala da ballo Il Gufo, a Borgo Segezia, locale frequentato abitualmente dai migrati dell'est europeo, armati di fucile e pistola e iniziarono a sparare ad altezza sbuomo, attraverso le finestre del locale. Dopo aver esploso vari colpi, anche contro le auto in sosta nel parcheggio della pizzeria, gli autori del fatto si allontanarono. Le indagini si concentrarono da subito sulla criminalità straniera. Il movente sembrava riconducibile a contrasti sorti tra albanesi dediti al traffico di sostanze stupefacenti. In particolare l'evento era collegato con quanto avvenuto presso lo stesso locale qualche giorno prima, quando personale della questura di Foggia era intervenuto a seguito dell'aggressione subita da un albanese da parte di un gruppo di connazionali. Attraverso alcune preziose testimonianze e le informazioni acquisite con le intercettazioni e l'analisi di tabulati telefonici, i carabinieri sono riusciti a individuare Ismail Asani come uno dei responsabili della spedizione punitiva. Era lui ad imbracciare il fucile calibro 12 che sparando all'interno del locale aveva colpito il frigorifero, un tavolino e alcune bottiglie andate in frantumi. Asani sparò poi un altro colpo contro un'auto parcheggiata lungo un vialetto che costeggia il locale. Nel successivo mese di ottobre 2013 Asani venne poi tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalle autorità albanesi, dovendo scontare una condanna ad oltre tre anni di reclusione per reati in materia di armi commessi in Albania. Solo pochi giorni fa, il 10 giugno, l'uomo era riuscito a ottenere il beneficio degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, interrotto però dalla nuova ordinanza di custodia cautelare a seguito della quale è tornato in carcere.